Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Sembra essere certo il nome del vincitore della sesta edizione del GFVip Ecco chi vincerà il reality.GFVip.Lunedì 14 marzo, Alfonso Signorini darà il via alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip che in questi mesi ha fatto compagnia a milioni di telespettatori che si sono appassionati alle vicende dei viponi all'interno della casa GFVip? Ecco il nome del vincitore.Quella che sta per terminare è l'edizione più lunga di tutta la storia del Grande Fratello, andando a superare la scorsa edizione che fu prolungata per via del successo ottenuto La puntata di lunedì si aprirà con il risultato del televoto che decreterà il quinto finalista del reality, nonostante tutti quanti i sei concorrenti rimasti nella casa siano in ogni caso arrivati all'ultimo giorno di permanenza all'interno del reality GFVip nome vincitore secondo gli scommettitori.Il televoto in questione vede da una parte Giukas Casella, che è rientrato nella casa pochi giorni fa dopo essere stato eliminato, grazie al biglietto di ritorno che era in suo possesso, e dall'altra parte invece abbiamo Jessica Selassie, principessa etiope molto amata dai telespettatori Il vincitore di questo televoto andrà a contendersi il premio finale assieme ai quattro finalisti del reality che sono stati già decisi dal pubblico nelle scorse puntate I finalisti e i pronostici degli scommettitori.Tra questi ci sono Delia Durano, modella e moglie di Alex Belli che ha fatto parlare di sé sin dall'inizio del reality per via delle sue ospitate all'interno della casa dove ha discusso molto con Soleil sorge per il presunto flirt con suo marito La donna, dopo l'espulsione dell'attore, è entrata in casa diventando una vera e propria concorrente, ottenendo subito l'approvazione del pubblico che l'ha eletta prima finalista del reality Successivamente a far compagnia ad Elia c'è stata Lulu Selassie, il pubblico l'ha voluta come seconda finalista così come accaduto per Davide Silvestri che è riuscito a battere al televoto Soleil sorge diventando di diritto il terzo concorrente a contendersi il titolo di vincitore GF VIP nome vincitore secondo gli scommettitori.A questi tre, si aggiunge Barru che è stato scelto come quarto finalista lo scorso venerdì mandando a casa in un televoto flash l'extronista Sofico Degoni Secondo gli scommettitori, a trionfare in questa sesta edizione, sarà proprio Jessica Selassie, colei che non è ancora finalista, a seguire sul podio ci sarebbe sua sorella Lulu e al gradino più basso Davide Silvestri Poche possibilità, invece pare esserci per Deglia Duran e Barru, così come quasi nulle sono quelle di Giukas Casella che secondo i sondaggi sarà il primo eliminato della serata finale Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video